Dottor Cantone, in compagnia delle nuove generazioni forensi per parlare di corruzione e di come non è possibile quantificare il danno prodotto da questo fenomeno? Sì, purtroppo non è possibile quantificare, ci sono molti numeri che non hanno nessuna attendibilità. Però una cosa è certa, c'è un grandissimo danno da corruzione, questo è fuori discussione. Il danno è enorme, forse non si può sapere quanto, ma è certamente rilevante. Noi lo vediamo soprattutto spesso nel difetto di competitività o per esempio nella cattiva riuscita delle opere pubbliche, quelli sono danni da corruzione. Il procuratore Cantone dall'ANAC è venuto qui a torrenunziata come relatore, è possibile che in futuro possa venire come procuratore, come neoprocuratore della Repubblica? Io ho fatto domanda, ma deciderà il Consiglio Superiore, questa vicenda non ha nulla a che vedere con la domanda fatta. Tra l'altro la domanda è stata fatta da colleghi particolarmente autorevoli, deciderà il CSE.